Tutto pronto per il trasferimento della scuola media Marconi di Battipaglia che dovrà essere abbattuta e ricostruita. Le operazioni di trasferimento, perso altri pressi scolastici di Battipaglia, avverranno nei prossimi mesi. C'è stato un alunno che mi ha detto, sindaca, la scuola nuova dove andremo sta proprio di fronte a casa mia, quindi io chiamo mamma per qualsiasi cosa, era anche molto contento. Le scuole sono pronte, abbiamo iniziato quest'anno sempre l'apertura alle Marconi, anche d'accordo con la dirigente, ma i lavori sono a buon punto, sei classi li abbiamo ricavati qui alla Clamandrei, quindi persone che già conoscono questo istituto saranno nell'istituto e le altre classi all'istituto all'agraria e a quello che era poi una vecchia parte del Ferrari. Devo dire che è tutto pronto per fare questo cambio. Abbiamo preferito iniziare così e poi dovremmo solo decidere il passaggio, perché il Ministero ha fatto già la carta, tu sai che l'abbattimento e la ricostruzione è tutto seguito dal Ministero, noi insomma dobbiamo fare in modo che tutto sia pronto. Quindi il Ministero ha già affidato, c'è già una ditta che si è aggiudicato l'abbattimento e la costruzione della scuola e quindi aspettiamo solo la consegna del progetto definitivo e l'inizio per questa, insomma abbiamo i tempi contingentati, tu sai che la scuola deve essere costruita nel giro di almeno di due anni va ricostruita, quindi state sereni, tranquilli e soprattutto non cambierete ambiente dove state, la stessa rione, fai conto che io ho dei nipotini, uno viene qua e l'altro andrà all'agrario, per me è la stessa cosa, se tu vivi a Serronimo o andare a Via Marconi, andare alle Marconi o andare lì all'agrario è la stessa cosa, almeno abbiamo cercato di trovare delle aule idonee e una parte idonea dove questi ragazzi non cambiano di quartiere. Il trasferimento per quando è previsto? Non lo sappiamo, stiamo aspettando l'ok, il momento in cui il progetto definitivo viene consegnato e la ditta è stata già individuata, sicuramente prima di Natale viene fatto il trasferimento, non sappiamo se da qui a un mesetto addirittura perché è previsto anche il trasporto di tutti i mobili, i banchi, le lavagne, insomma è tutto pronto, noi siamo pronti. Grazie